È una fede. Dei fan, dei fan. Queste sono tutte le altre fan che puoi intervistare. 13 anni, 14. Ora hanno 43. Tanti anni. Comunque la rete d'oro, quella più bella. Una canzone vecchissima. Sono la giovane del gruppo. Sono cresciuta a pane, Renato Zero e anche il toro. Renato Zero è per me la colonna sonora della mia vita. Il primo concerto l'ho ascoltato nel 1980 a Sanremo. Scappai quasi da casa per assistere a Senza Tregua. E da allora ho seguito tutte le tappe di questo artista che a mio avviso, oltre alla profondità dei testi, è anche un personaggio veramente incredibile del nostro panorama e non solo italiano. Un mito, un grande. unico, inimitabile. Bravo. Lo vedi, ti lascia tutto. Fantastico. Ma io ho già visto qual è la scaletta e soprattutto qual è il tema di questo concerto. È un concerto assolutamente strepitoso che va oltre quelle che sono le canzoni tradizionali e quello che ci si aspetta da Renato. È un concerto, è praticamente uno spettacolo teatrale, quindi sarà una cosa nuova, nonostante Renato potesse anche solo accontentarsi di ripetere le sue vecchie canzoni. Invece qui fa uno spettacolo completamente nuovo per continuare a far assistere ai suoi fans cose veramente emozionanti e memorabili. So che sarà uno spettacolo teatrale più che un concerto, quindi vedremo. Questa frase perché è la frase del carrozzone e l'avevo dedicata al mio suocero quando è mancato due anni fa perché è il carrozzone dedicata al papà di Renato quando il papà di Renato mancò e ci fu questo carrozzone che quindi leggendo tra le righe questa canzone si può capire il significato profondo della stessa. Grazie.